Anche il centro storico della città di Agropoli è cardioprotetto e infatti il 3 marzo ci sarà lo start del corso di formazione proprio per tutti gli operatori del centro storico e quindi delle attività commerciali ma anche per i cittadini. Ma prima di raccontare questa cosa vorrei fare un passo indietro e farmi raccontare da Giussi come è nata questo progetto, questa iniziativa. Ricordiamo che tu hai scritto un libro e poi da questo libro che cosa è successo? Allora l'idea è nata da questo libro di poesia La Voce dei Gabbiani e approfitto per ringraziare un solo Cilento Channel che me l'ha promosso ma anche il dottor Crispino e tutto lo staff del Settembre Culturale. La decisione è stata questa, di devolvere tutto il ricavato per un'associazione, l'associazione La Panchina, una giornata per la vita e per Vito di Albanella. Quindi tutto è stato devoluto a questa associazione la quale a sua volta ha donato un defibrillatore al nostro centro storico. Quindi il centro storico sappiamo bene che è stupendo però non facilmente accessibile per le ambulanze, quindi per le emergenze. Soprattutto d'estate quando realmente è colmo di turisti e quindi abbiamo voluto che fosse cardioprotetto. Il 3 marzo ci sarà lo start per quanto riguarda i corsi BLSD? Sì, allora innanzitutto voglio nominare la professoressa Emilia Verderame che è la presidente dell'associazione La Panchina. Con questa associazione hanno donato defibrillatori in diverse zone del Cilento, però hanno voluto che questo fosse proprio per noi del centro storico. Il giorno 3 chiudiamo con gioia questo progetto perché giustamente non avrebbe senso avere il dispositivo e non essere in grado di intervenire. Siamo una trentina di persone e abbiamo voluto dare la precedenza, la partecipazione chiaramente agli operatori, a catechisti, educatori, commercianti del centro storico che chiaramente ne diventano non solo operatori, quindi utilizzatori, ma anche custodi di questo dispositivo. Giussi, ricordiamo dove è posizionato il defibrillatore? Allora, alle spalle della chiesa della Madonna di Costantinopoli.